Mi dio la spaglia io, dove coglio mi dio? Da qui, qua, da qui no... Che dici che no? No, no, non posso, già. Non mi vieno a dire che lo vantassi... Sette via di la schienita, e si, con i giovani, ho visto che si muove, può raggiare. Allora, per che non si mette nella bolla? Che ne è? No, che stai tirando. Come? Il cargador stai tirando. Si mette nella bolla e la risa, le sei? Si mette, va si hai? Oh, io è che a tutti Godzelli, che stai morto? L'onore che c'è qualche, dimine qualcosa di rispettare? Ok.